Quando Johnny va, che strane cose fa, lui può spostare tutto col pensiero. E' timido e sincero, di tutti tutto sa, poiché legge nel pensiero. E' quasi magia, e' quasi magia. Se Johnny gira e va, che strane cose fa, lui vola con la forza del pensiero. Ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante è Johnny. Johnny, Johnny, è quasi magia. Johnny, riprova di nuovo. Johnny, e come sempre riusci.